I fondi per gli italiani all'estero in difficoltà, Nissoli torna a interrogare Di Maio. Turismo delle radici, incontro a Mar del Plata con la Federazione delle Società Italiane. A Praga, una scuola italo-ceca del primo ciclo di istruzione. E' scomparso Rocco Terracina, storico presidente dei Lucani di Senise. NICE USA 2020, trentesima edizione in streaming. A Monaco, il Festival del Libro e della Letteratura Italiana torna in versione online. In studio, Mike J. Pilla e Luigi Liberti. Ben ritrovati amici di Patrimonio Italiano TV a una nuova edizione del Patrimonio TG. Ciao Gigi. Ciao Mike, buonasera a tutti. Partiamo subito con una notizia di politica. Sono ben 6 milioni di euro, 4 più 2, stanziati per i connazionali all'estero in difficoltà per la crisi economica dovuta a questa seconda ondata di pandemia. Ma da parte del governo c'è ancora poca chiarezza su come vengono utilizzati. Diversi eletti all'estero hanno interrogato più volte il governo senza ricevere risposte chiarificatrici. L'onorevole Nissoli ha chiesto al ministro Di Maio di sapere di quali strumenti si avvalsa l'amministrazione degli affari esteri per comunicare adeguatamente la notizia degli aiuti economici in favore delle comunità all'estero. ai fini di una tempestiva richiesta da parte dei connazionali indigenti e quali siano i dati aggiornati circa le modalità e la quantità di spesa fino ad oggi compiutamente effettuata, con particolare riferimento ai connazionali in difficoltà nella ripartizione Nord e Centro America. Auspico, conclude Nissoli, che questa volta il governo dia risposte più chiare e trasparenti. E ci spostiamo in Argentina. Si è tenuta presso la sede della Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata una riunione alla quale hanno partecipato il presidente Marcello Carrara, il vicepresidente Sergio Patruno, il tesoriere José Ojanto, la segretaria Daniela Atlante con la docente e ricercatrice Ana Biasone della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Nazionale di Mar del Plata. Scopo dell'incontro è illustrare il progetto di ricerca dai flussi migratori ai flussi turistici, il turismo delle radici, strategie di destination marketing per il richiamo in patria delle comunità di emigrati italiani nel mondo e per rafforzare il patrimonio identitario locale. Un progetto approvato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato presentato dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, capeggiata dalla professoressa Sonia Ferrari. Biasone ha spiegato che la popolazione di riferimento di questa ricerca sono tutti gli oriundi italiani nel paese sudamericano di prima, seconda e terza generazione, la quale attualmente conta più di un milione di persone con cittadinanza italiana ma si stima che circa 20 milioni abbiano radici nel bel paese. Biasone, anche con un punto di riferimento del turismo a Mar della Plata, ha informato che il progetto si svolgerà con due tipi di sondaggi. Un'indagine qualitativa condotta con un'intervista semistrutturata su un campione ragionato di 50 skateboarders e testimoni privilegiati che si sono resi disponibili per approfondire le tematiche oggetto di ricerca e un'indagine quantitativa condotta attraverso un'erogazione di un questionario online. Durante la riunione di due ore, dove tutti i presenti hanno scambiato diverse idee, Biasone ha spiegato che il campione finale, fissato in circa mille campioni contattati via online, verrà successivamente post-stratificato ed eventualmente calibrato per assicurare la corretta espressione della popolazione. Carrara, infine, ha manifestato la volontà di collaborare durante i prossimi mesi a questo progetto tramite le 25 associazioni che rappresentano la Federazione Italiana di Mar del Plata. Ci spostiamo in Repubblica Ceca, nel pieno centro storico della capitale Boema, dove Alfredo Iorio, docente di fisica nato e cresciuto in Irpinia, nel 2014 ha creato a Praga una scuola italo-ceca del primo ciclo di istruzione, due culture tre lingue, e questo lo slogan della scuola, che è una sezione dell'Istituto Scolastico Pubblico Gut Jarkovski. Ascoltiamo Alfredo Iorio, che da vent'anni, a fianco alla ricerca in fisica, si dedica all'innovazione dell'insegnamento a tutti i livelli in Irlanda, Italia e Repubblica Ceca. L'idea nasce in Irlanda, già ormai vent'anni fa, insegnando matematica a dei ragazzi che avevano un'età compresa tra i 7 e i 12 anni. Quest'esperienza mi ha molto segnato, perché mi ha fatto toccare con mano l'importanza di intervenire a un livello il più alto possibile già a quell'età. Mi ha convinto addirittura che i più bravi vanno a insegnare a quella fascia d'età. In più, poi, la scuola messa in piedi a Praga è italiana, perché da italiano, girando il mondo, ho scoperto che l'Italia non solo è, diciamo, è sicuramente importante per il cibo, la moda, le macchine, ma quello che va più in profondità è la sua cultura universalistica, perché studiare la cultura occidentale equivale a studiare la cultura italiana per una larga parte. E questo approccio universalista, come è precipito all'estero? Qui a Praga è ricepito benissimo. Infatti, non è stato difficile incontrare persone disponibili ai più alti livelli, dal Vice Ministro per l'Istruzione al Comune di Praga 1. Da questo punto di vista la cultura italiana è stata abbracciata totalmente. Tant'è vero che la maggior parte dei ragazzi che frequentano questa scuola è cieco, nel senso sia da parte di madre che da parte di padre, cioè non ha nessun legame diretto di sangue con l'Italia. È quella scuola per apprendere la cultura italiana, per crescere in questa cultura che loro, chiaramente la famiglia, apprezza e reputa qualcosa di importante. E lei pensa che questo esperimento che ha messo in piedi in Praga può essere ripetuto altrove? Sicuramente sì. Ne sono convintissimo. Una cosa che dicevo un attimo fa, l'entusiasmo è stato talmente forte e travolgente. La scuola ormai conta 200 studenti ed è una realtà affermata, radicata da Praga solo in pochissimi anni. In più ho avuto contatti anche con altre città qui in Repubblica cieca. Sono sicurissimo che questo progetto si potrebbe ripetere in tutte le città importanti della Repubblica cieca esattamente così com'è, diciamo, con le due culture e tre lingue nel formato presentato qui a Praga. Modificando uno dei fattori, e cioè la cultura locale diventa quella russa piuttosto che quella polacca, e si mantiene chiaramente la struttura italiana e la parte internazionale, ecco, con questa piccola modifica, nel palinsesto generale, un esperimento del genere funzionerebbe quantomeno, per esperienza diretta mi sentirei di scommettere fortissimo, quantomeno in quella che una volta era chiamata l'Europa dell'Est. Poi non mettiamo limiti alla provvidenza, la cosa potrebbe andare anche oltre. Per far questo però ci vuole una grande azienda, ecco, questo lo prendo un po' come un appello che rivolgo attraverso questa emittente, a persone lungimiranti, così come è stato il direttore Cirinna delle Assicurazioni Generali qui a Praga, che hanno scommesso su questa nostra iniziativa e che infatti è stato un gran successo. Ci vuole qualcuno con questo coraggio e con questa lungimiranza che sia pronto ad abbracciare questo progetto, a sponsorizzarlo, e io sono certo che avrebbe un gran successo, ripeto, in tutti questi paesi dell'Europa ex dell'Est, diciamo così, ma sono sicuro anche molto oltre. Una grave perdita per l'associazionismo e la storia dei Lucani nel mondo ed in particolare per quelli dell'Argentina, che come è noto sono la terra d'aduzione per l'eccellenza degli italiani. All'età di 83 anni è scomparso nelle scorse ore Rocco Terracina, storico presidente dell'Associazione dei Lucani di Senise, insieme a tanti altri suoi corregionali, e ha dato corpo e vita alla federazione dei Lucani in Argentina, diventandone presidente per oltre dieci anni. Ricordiamolo con le parole di Luigi Scaglione. Ricordare Rocco Terracina per noi Lucani nel mondo è un dovere. Lui ha lavorato tanto per la nostra comunità in Argentina, prima con la sua associazione dei Lucani di Senise, poi per costituire la federazione, fino a quando hanno realizzato anche una bellissima sede. è il segno di un'appartenenza che non è mai venuta a Mena, nonostante non avesse più un ruolo nella federazione di cui era stato per molti anni presidente, e aveva introdotto tra l'altro la figura che lo ha seguito in quell'incarico di una donna, perché aveva capito qual era il senso di una continuità dell'azione dei nostri amici associati. Lui poi aveva anche dato una mano a tutti quei Lucani e agli italiani, in genere che arrivavano negli anni 50-60, anche per il lavoro che faceva nella Banca Cassa di Mutua italiana, cioè un segnale forte di riconoscenza. Ed infine aveva preteso che la Regione Basilicata, insieme agli altri amici di quella federazione, penso a Lucio Cifarelli, a Giuseppe Boni, a Santa Maria Claps, Vito Santanzieri, la stessa Lucia Martino e tanti altri ancora, aveva preteso che la Regione Basilicata non si dimenticasse di chi aveva effettivo bisogno, cioè dei Lucani indigenti, cosa che abbiamo fatto dopo molti anni attraverso la realizzazione di una casa di riposo incongordato con la Municipalità di Buenos Aires. A Rocco Terracina dunque va il nostro grazie, il nostro grazie, il nostro grazie per quello che ha fatto, per quello che ha significato per la nostra comunità in quella terra ostica ma accogliente, come lo è stato per tanti italiani che si sono trasferiti in Argentina. Il pubblico americano potrà immergersi nella cultura e nelle atmosfere italiane senza lasciare il proprio divano, grazie alla trentesima edizione di New Italian Cinema Events USA, NICE, che si svolgerà in versione online. Una selezione curata di 11 film inediti negli Stati Uniti dal tema Il cinema come memoria sarà disponibile al pubblico gratuitamente su eventive.org nell'area metropolitana di New York fino al 21 novembre e a Philadelphia dal 29 novembre al 6 dicembre. Come sempre il festival collabora con istituti culturali di New York, New Jersey e Pennsylvania per offrire incontri che amplieranno ulteriormente la programmazione. Proiezioni e talk show sono organizzati con il supporto del Consolato Generale d'Italia New York ed in collaborazione con i partner di lunga data del NICE, Casa Italiana Zerilli Marimau, Istituto Italiano di Cultura di New York, Princeton University, Dipartimento di Francese Italiano, Penn Cinema Studies, University of Pennsylvania e Mindless Documentary Center di Harlem. Per celebrare il suo trentesimo anniversario, oltre allo storico premio del pubblico comune di Firenze, quest'anno il NICE USA introdurrà un nuovo premio, il NICE Prize. Il programma completo delle proiezioni del festival e degli eventi è disponibile su www.nicefestival.org. NICE 2020 è realizzato con il supporto di MIBAC, Direzione Generale Cinema, Comune di Firenze, Regione Toscana, Rai Cinema e Fondazione Cassa di Risparmio. Ma è che adesso voliamo in Germania! Esatto Gigi, perché dal 20 al 22 novembre il FEST, Festival del Libro e della Letteratura Italiana a Monaco di Baviera, ritorna in versione online con il FEST Intermezzo. Il FEST si rivolge a tutte le persone legate dalla passione per la lettura che condividono il piacere di incontrare e discutere con autori italiani in lingua italiana o tedesca. Ascoltiamo l'ideatrice del festival, Elisabetta Cavani. Buongiorno Mike, buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori, dovunque siano. Sì, anche il FEST, il Festival di Letteratura Italiana di Monaco, è rimasto bloccato dall'epidemia e quindi ci siamo trovati a ripensare in che modo rimanere collegati con i nostri ascoltatori, con il nostro pubblico. Abbiamo quindi cominciato già in agosto una serie di video interviste che si possono vedere su Facebook e sul canale YouTube di Il Fest Munchen con autori, autrici, con traduttori, traduttrici e altre persone legate al mondo dell'editoria. Proprio per mantenere vivo il contatto con il nostro pubblico e anche per mettere in luce certi aspetti che non troverebbero abbastanza spazio nel ristretto e compresso programma di un festival che si tiene in una fine settimana soltanto. Però, quando poi è stato chiaro che neppure in autunno era pensabile riproporre dal vivo il festival, ma che soltanto ci auguriamo nell'estate del 2021 se sarà possibile di nuovo, allora abbiamo deciso di fare un intermezzo e così l'abbiamo chiamato il Fest Intermezzo, una versione online del festival che si terrà dal 20 al 22 di novembre online, quindi tramite il canale Facebook sia di Il Fest che dell'Istituto Italiano di Cultura, nostro partner, che su Zoom per chi vuole anche la traduzione simultanea in tedesco e questo iscrivendosi tramite il sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Monaco. Nel programma, che appunto va da venerdì a domenica, avremo un incontro con il console generale di Monaco di Baviera, Enrico De Agostini e Silvio Magnago, ambasciatore a Bern, che hanno in comune non solo di essere diplomatici di carriera ma anche di essere scrittori. L'incontro infatti verterà su letteratura e diplomazia. Poi sempre venerdì alle 19 avremo Igiabascego e con lei e il suo libro La linea del colore si parlerà di colonialismo, di identità femminile multiculturale e di altri interessantissimi aspetti. Sabato ci sarà Nadia Terranova, il cui libro Addio Fantasmi è stato tradotto in queste prima dell'estate in tedesco e chiuderemo domenica con Andia Trabbia, Madrigale senza suono, premio Campiello 2019, su tema musica, dolore, arte e bellezza. Sarà comunque un programma molto interessante a cui vi invito a seguire e a partecipare perché in questi giorni, in questi tempi proprio di nuova chiusura la letteratura e la cultura in generale hanno un ruolo importantissimo e quindi per evitare di appiattirci semplicemente nella quotidianità che è difficile e pesante e per prendere una boccata di respiro, per mantenere la possibilità, la capacità di immaginare percorsi diversi, soluzioni diverse e magari guardando ad altre epoche o altri destini. La letteratura serve. E siamo giunti al termine di questa nostra edizione, Mike. Sì, Gigi, io voglio ringraziare e salutare tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV invitandoli ovviamente a visitare il nostro sito patrimonioitalianotv.com, i nostri canali social, il canale YouTube per controllare tutte le nostre produzioni in tempo reale. L'appuntamento alla prossima edizione. Un saluto a tutti! Grazie a tutti!